Ah e quindi oggi finalmente parliamo di Apple Si perchè chiamarla col nome normale Apple mi faceva troppo schifo Torniamo seri Ciao ragazzi bentornati sul mio canale ma soprattutto benvenuti in questo nuovissimo video Come state spero tutto alla grande Questo oggi per l'appunto come detto dal titolo visto da miniatura in realtà praticamente ovunque parliamo di lui Si questo iPad Pro modello 2018 Difatti sino al primo giorno in cui ho fatto l'unboxing di questo prodotto sul canale Se vi siete presi il video andate a recuperarlo che è molto interessante Alcuni di voi sotto i commenti del video ma anche su Instagram Mi avete chiesto di realizzare in un secondo momento un video in cui vi parlavo per bene Di come mi ci fosse trovato, l'esperienza d'uso Ma in particolare di una cosa ovvero Il ricondizionato è sicuro? E soprattutto vale la pena dei soldi che uno ci spende? Perchè si questo iPad è ricondizionato Ma insomma ne parleremo per bene all'interno di questo video Oh e quindi ben ritrovati con questo nuovissimo video in cui parliamo della famiglia Apple In particolare di questo simpaticissimo iPad Pro modello 2018 Ricondizionato, 11 pollici e tutte le cose che ne conseguono Si lo so perfettamente che tutti di questo periodo parlano delle nuove AirPods 3 Parlano dei nuovi MacBook con i processori super mega oh mio dio E poi ci sono io che parlo di un iPad del 2018 Ma va bene così, ci piace lo stesso In questo video naturalmente voglio raccontarvi un po' quella che è stata la mia esperienza in generale In questo mese e anche qualcosettina di più Che ho provato e utilizzato costantemente tutti i giorni Di parlarvi naturalmente anche di quelli che sono stati gli accessori che mi hanno accompagnato Per l'uso effettivo di questo prodotto E soprattutto trattare la tematica di condizionato Perchè appunto come vi ho già detto sin dall'inizio Questo prodotto qui l'ho comprato su Amazon Re, re, one, re, one, insomma La parte di Amazon che dedica il condizionato o all'usato E quindi niente questo è quanto Prima di cominciare naturalmente vi ricordo che tutti i link ai prodotti di oggi che vi mostro Li trovate in descrizione Comprete gli accessori, l'iPad, qualora fosse interessati E altre robettine molto interessanti E poi ovviamente tutti quelli che sono i miei social Detto questo godetevi il video E ovviamente prima di cominciare che fai? Non lo lascio un bel pollice in su? Molto bene quindi parliamo di questo simpatico oggetto In realtà vi dico sin da subito mi è piaciuto in una maniera esponenzialmente troppo ampia Dite che ho utilizzato troppi aggettivi? Sì lo credo anch'io Nel senso che comunque a parte l'editate incredibile miliarde Che questo cosa riesce ad acchiappare È veramente un sacco un sacco comodo In realtà io questo l'ho acquistato per diverse motivazioni Sia ambito scolastico sia ambito di uso di tutti i giorni E volevo anche provare ad editarci qualche video su Però quello ancora purtroppo non l'ho testato Ma la vera domanda sorge Perché hai acquistato un iPad del 2018? Allora in realtà la motivazione è molto semplice Al di là del fatto che l'ho trovato in super mega offerta Infatti l'ho pagato una roba come 400 quasi 500 euro Ma discorso economico a parte avevo la scimmia proprio dentro di me Voleva provare un iPad in quanto come già detto prima non sono mai stato un possessore effettivo Sebbene l'abbia provato sempre in giro qui a destra a casa di amici All'Apple Store Ma non ne ho mai posseduto effettivamente uno io In realtà nel periodo in cui ho deciso di comprarlo Quindi settembre barra ottobre Era uscito l'iPad di nona generazione La mia idea era partita di comprare quello Però visto il costo basso e viste milioni di altre cose Naturalmente è andato sold out prima che appunto ci potessi premere il tasto acquista ora Però beh non importa ci sta alla fine Quindi cercando e imbattendomi un po' su Amazon Anche nella sezione ricondizionato barra usato Ho visto lui ad un prezzo vantaggioso E anzitutto mi sono cominciato a porre 2 milioni di miliardi di quesiti della serie Ma ha senso comprarlo perché compra il 2018 piuttosto che il 2021 o 2020 Beh in realtà la motivazione è che è molto semplice L'iPad Pro 2020 è parecchio simile a questo qui E sebbene sia comunque il modello 2018 contiene features super mega belle A partire dall'iPad OS Quindi un'esperienza di utilizzo veramente sublimica Da parte comunque di un dispositivo di questa categoria E poi naturalmente il display a 120Hz Che è una cosa assurda Anche se effettivamente c'è da dirlo non è che lo sfrutti tantissimo Perché dopo un certo tot di tempo Poi magari questa cosa può essere soggettiva da persona a persona Ma comunque mi dà un certo fastidio agli occhi Comunque ad ogni modo questa è la storia più o meno Di come io sia riuscito ad acquistare lui Per quanto invece riguarda l'esperienza sul fatto di averlo comprato ricondizionato Beh qui posso dirvi due tasti un po' così Allora beh anzitutto una cosa che ho assolutamente apprezzato davvero tantissimo E il fatto che veramente l'iPad non abbia assolutamente un graffio Cioè di solito i ricondizionati vengono appunto rimessi al nuovo Perché hanno dei difetti Secondo me il difetto di questo iPad era lo schermo Perché dando un po' un'occhiata a quella Dando una controllatina Ho notato anzitutto che ci sono i bordi un po' distaccati dallo schermo Cosa che non credo avvenga in produzione Apple Per questo genere di prodotti che quando escono comunque costano 700-800 euro E poi comunque in alcune zone lo schermo vedete Tende veramente tantissimo ad essere fin troppo sensibile E la cosa in realtà non è che sia proprio un bene Però comunque al di là di questo Veramente nessun difetto estetico Tutto perfetto Anche la bella super mega intatta Nessun grafico È proprio al bacio Anche la batteria in realtà penso che sia stata cambiata Perché intanto mi si stanno aprendo cose fermo Dicevo anche la batteria credo sia stata sostituita Perché è molto a duratura Durante il corso delle giornate Durante anche l'utilizzo che ne faccio Fate conto che io lo carico più o meno una volta ogni tre giorni Che comunque per questo genere di iPad Con uno schermo veramente gigante È una cosa notevole Tra l'altro non credo di avervelo detto Eccolo lì Tra l'altro una cosa che non vi ho detto Ma penso che si fosse tranquillamente intuito È il fatto che il modello è da 11 pollici 12.9 o quello che sia È fin troppo gigante Cioè veramente a questo punto faccio veramente A comprarmi un portatile Questa secondo me è la perfetta dimensione Per tutti coloro che vogliono prendere appunti Vogliono utilizzarlo per giocare Guardare video Che veramente guardare video su questo coso È un'esperienza esotica Sia per quanto riguarda l'audio Ma sia soprattutto per lo schermo E poi vabbè tutte le varie features Che Apple insomma ci abitua ad avere Per quanto invece riguarda l'ambito scolastico Vediamo se la penna è carica Eccola lì che è scarichissima Dicevo anzitutto penna che ho trovato su Amazon Che ho comprato Non l'ho pagata effettivamente tantissimo Circa 30 euro E vi devo dire che vi sto trovando veramente molto bene A partire dal fatto che abbia il magnete qui sopra Quindi si può tranquillamente mettere E appunto far sì che sembri un Apple Pencil Ma in realtà è molto lontana da un Apple Pencil La punta, la pressione e qualsiasi cosa rispondono davvero da Dio Cosa che in realtà non mi aspettavo per un prodotto di questo calibro E poi soprattutto la batteria Cioè la batteria ragazzi dura 20 ore Che sono davvero un botto Naturalmente una volta che uno finisce di utilizzarla Deve metterla in carica tramite questa porta USB di tipo C Però vabbè quello è il minimo Per gli appunti di scuola e tutte le cose che ne conseguono Utilizzo e sto utilizzando ancora tuttora le note di Apple Avrei potuto comprare magari qualche applicazione Del tipo Notability o comunque robe simili Però sinceramente per quello che devo prendere io Per le varie cose mi va più che bene Utilizzare le note di Apple Anche se potevano secondo me migliorarla un attimino Banalmente una cosa che mi piacerebbe introducessero E' il fatto di mettere proprio qui il esporta come PDF Cioè io vi chiedo perché non lo facciano Uno per esportare un file dalle note in PDF Dovrebbe andare su stampa Poi una volta che qui dovrebbe tenere qui premuto Cliccare nuovamente E poi si apre per magia un'altra scheda Dalla quale premendo qui sopra Si può tranquillamente salvare il file in PDF Diversamente se lo salva come formato immagine E non capisco il senso Però vabbè questi sono i trick di Apple incredibili Al di là di questo comunque è davvero perfetto Per prendere gli appunti Soprattutto con la penna Tanto tanto comodo quanto smart Perché io veramente da quando questo Ho smesso praticamente di portarmi Oddio non esageriamo Però comunque sto utilizzando davvero tantissima meno carta Sto praticamente comprando tutti i libri In formato ebook In automatico sfruttando anche quello che è il multi screen Vedete adesso magari è meglio se lo utilizzassi così Potrei tranquillamente dividere qui lo schermo E tenermi da questo lato di qua Io che scrivo cose Mentre da questo lato di qua Magari formule Foto Foto del libro Insomma seguire i multitasking Poi ovviamente in abbinata Come starete sicuramente notando Ma vi ho fatto vedere anche nel video unboxing Ho deciso di comprare quella che è la versione un po' ridotta Di quella che è la magic keyboard con trackpad di Apple Va bene no quella magnetica Quella tutta bella Quella che costa 400 euro Ecco proprio lei Questa qui di Logitech E secondo me è un'alternativa Veramente tanto tanto valida Quanto funzionale Perché anzitutto si connette tramite i tre pin Posti su rete dell'iPad Quindi non c'è bisogno di doverla caricare Non c'è bisogno di dover fare assolutamente nulla Neanche l'abbinamento col bluetooth Fa tutto in automatico da solo E poi naturalmente uno può sfruttare tutte le varie cose Come più gli pare piace Può scorrere le varie pagine Può anche mettere la rete illuminazione dei tasti E per esempio se uno volesse andare a mettere qualcosa all'interno di documenti vari Si mette a scrivere tutte le varie robe che gli piacciono Insomma anche sotto questo punto di vista qui Comodità a livelli supremi Poi uno magari volendo finisce di utilizzarla Tac la mette qui dietro In automatico è super mega pronto per prendere gli appunti E basta Poi magari ogni tanto si bug Ma che quello insomma Apple No tra l'altro a parte gli scherzi Ma con l'aggiornamento iOS 15 Ci sono introdotti una serie di bug incredibili Che voi non avete manco idea Però quello è un altro discorso Poi comunque per il resto davvero tanta tanta roba Uno finisce di utilizzarlo Lo mette qui così Pronto per andare a casa Così rimane davvero davvero molto 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 bello Tutto bello compatto Tutto bello protetto Ci sta Quindi in definitiva Come mi ci sono trovato Assolutamente molto molto bene Per quanto riguarda il contesto ricondizionato o meno Anche lì onestamente mi sento di consigliarvelo Perché comunque ho comprato diversi prodotti ricondizionati su Amazon O comunque usati E a dirà comunque del fatto che avete una garanzia aggiuntiva grazie ad Amazon Infatti la possibilità di fare il reso di questo iPad è di un anno E poi veramente per il resto nulla Perché vi portate magari a casa dei prodotti praticamente nuovi Ad un prezzo veramente più che dimezzato rispetto ai concorrenti Questa cosa però attenzione non vale per tutti Io ho avuto modo di poterlo sperimentare con Amazon Che per quanto riguarda iPad che con Apple Watch Però onestamente altre aziende esterne non ho mai provato Quindi non mi pronuncio L'unica cosa che posso dirvi Controllate sempre costantemente ovunque Carcando naturalmente fonti attendibili Prima di fare qualsiasi cosa Detto questo Io spero che in qualche modo questo video vi sia piaciuto Non so neanche cosa ne sia uscito fuori effettivamente Ma spero che comunque l'abbiate apprezzato Fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra Se anche voi possiedete un iPad O comunque un prodotto ricondizionato O qualsiasi cosa Scrivete nei commenti Niente Vi ringrazio per la visione E come sempre ci becchiamo alla prossima Vi saluto Ciao a tutti